Nutella, Kinder e Tic Tac. I grandi nomi della dolcezza della Ferrero non risentono della crisi all'estero, anzi le vendite oltre confine dai soli prodotti finiti nel 2013 si sono assestate a 780 milioni di euro pari a un 4,1%. La musica cambia invece per l'Italia dove i numeri non sono altrettanto rosei. L'anno scorso le vendite si sono fermate a quota 1,474 miliardi con una flessione del 5,3%. La battuta d'arresto sul fronte nazionale è da debitare principalmente, rilevano gli esperti, al calo del potere d'acquisto delle famiglie, oltre che del comparto bevande con l'estatea in balia delle onde della concorrenza e dei prodotti da forno. Sul fronte delle esportazioni comunque la Nutella non ha rivali, porta a casa un dolce più 10,3% a volume e un più 20,8% a valore. Una ricetta italiana che salva così involata, con un esercito di Kinder Cioccolato e il Tic Tac, i conti della Ferrero.